Selva oscura a Lanciano nel cuore della città in un parco ormai foresta scomposta da due anni senza manutenzione in completo abbandono dopo che la Proloco ha alzato bandiera bianca rinunciando alla gestione dell'enorme area. Decisive le frane del costone del ponte, la zona è infatti a rischio idrogeologico dopo l'alluvione del 22 giugno 2018 che ha distrutto completamente la stradina centrale che portava sotto il ponte. La forza dell'acqua ha divelto uno strato di circa 30 centimetri del rivestimento del camminamento lasciando scoperta l'armatura in ferro portando via panchine devastando il parco. I fondi promessi dalla regione Abruzzo non sono mai arrivati, le casse comunali sono in affanno. Il parco dunque è lasciato al suo triste destino eppure le premesse erano ben altre, un'area verde attrezzata in un suggestivo spazio dominato dal ponte di Oclezzano e dalla cattedrale della Madonna del Ponte con percorsi natura, area ristoro, occasioni culturali. Ne rimane solo una selva.